chi lo sta per servire entra nella tavola calda come una consolante scoperta del locale si avvicina alla mostra e chiama chi lo sta per servire signora chiede mi mette per favore in una bustina una crocchetta e un supplì si sposta lungo la mostra mi dà anche una porzione lì c'è la carne allora no grazie e quella è lasagna allora sì grazie l'uomo anziano è gentile sembra che viva chiedendo scusa a chi è alla cassa chiede se ha bisogno di spiccioli li cerca alcuni cadono a terra si abbassa fatica e chiede scusa al cassiere che attende perché questo signore emana qualcosa che mi colpisce come un'onda di qualità commento perché avverti la sua aura che il corpo eterico questo signore ha un io consumato e tu avverti la pregnanza dei suoi corpi superiori